Il campionato di promozione Girone C nella sua terza giornata ha vissuto momenti particolarmente belli e soprattutto una giornata ricca di golle con tante piccole sorprese. Iniziamo subito col dire che il Montesarchio inala la sua terza vittoria consecutiva e diventa sempre più la squadra di inizio stagione, la squadra che tutti dicevano la squadra da battere quindi sta a pieno rispettando quello che si era detto. Delle altre squadre che erano date per sicure protagoniste c'è da registrare una seconda sconvitta da parte della Forza e Coraggio che perde 4-2 a Roca di Sant'Omaso contro il Sant'Omaso in una gara bella, vibrante e spettacolare dove la Forza e Coraggio in più occasioni ha sfiorato il 3-3 quindi ha perso 4-2, ha sfiorato il 3-3 quindi ha cercato in tutti i modi di impattare sulla gara però alla fine è uscita sconvitta con un 4-2 che fa cadere la squadra di mister Ferrari in una crisi non tanto di gioco ma soprattutto di identità, tanti giocatori di elevato spessore ma soprattutto tanti problemi che il mister cercherà in settimana di risolvere anche perché sabato prossimo ospita in casa il Serino, Serino che è una squadra da prendere con le molle. Dicevamo del Montesarchio Capolista, Montesarchio Capolista che batte la Bisaccese con un secco 3-1 la squadra di mister Lombardi dimostra a chi ancora non ne fosse a conoscenza di essere la vera squadra da battere ricordiamo che la squadra super giù dell'anno scorso è stato sostituito Panella che è ancora convalescente al suo posto è stato preso Ferretta, lì davanti c'è il bomber Tramfa che a volte nella gara si estranea però quando serve mettere la palla nel sacco è lì sempre presente quindi dicevamo un Montesarchio che batte la Bisaccese di Enzo Bozzi per 3-1 e vola a punteggio pieno in classifica. Dietro a questa squadra c'è un folto gruppo di squadre due squadre che nessuno forse dalla carta dava per protagonista in questo inizio di campionato vale a dire lo sport in guardia di mister Fasano e il Real Forino che con 7 punti rappresentano le outsider di queste prime tre giornate vince 4-1 contro Rione Mazzini lo sport in guardia mentre il Nusco si impone 1-0 ed è anch'essa secondo in classifica con 7 punti. Arriviamo a parlare del derby che si è svolto al Canada di Cervinare dove il Cervinare di mister Sergio Boni tal proposito penso che tutti abbiate visto le immagini che Usertv ha mandato per voi i fasi salienti della gara con i relativi gol. Vince 5-1 il Cervinare, una doppietta di Portone, una doppietta del Bomber Mortelliti che è anche capo cannoniere del Girone C di promozione quindi 5 eredi per lui segnate fanno capire di che spessore tecnico sia questo non più giovane calciatore e che contributo stia dando alla causa del Cervinare. Cervinare che con 4 punti rinizia a risalire la china quindi sicuramente sarà una delle protagoniste nel proseguo del campionato. 5-1 che il San Martino sicuramente non aveva preventivato qui a Cervinare però un San Martino che nella prima fazione di gioco si è reso protagonista di buone trame addirittura ha sfiorato più volte i gol poi ha dovuto soccombere perché il Cervinare è venuto fuori alla grande l'esperienza e soprattutto la voglia di vittoria del Cervinare davanti ai circa 6-700 spettatori hanno fatto la differenza differenza che le si è viste tutte a segnare anche il giovanissimo Iachetta che ha completato la cinquina che il Cervinare ha rifilato al San Martino. Gli altri risultati come abbiamo detto pari tra Serino e Atripalda 0-0 mentre l'altra squadra di Atripalda vince 2-1 contro il Fontana Rosa ed ora è una delle squadre in ascesa. Dicevamo della classifica In classifica abbiamo il Montesarchio che guida con 9 punti a seguire ci sono appunto lo Sporting Guardia Real Forino e il Nusco con 7 Sporting Atripalda con 5 poi seguono Cervinara, Sant'Ommaso, Fontana Rosa, Atripalda e Serino con 4 Forza e Coraggio con 3 Cara Tenuto con 2 Bisaccese, Renzulli, Rione e Mazzini e San Martino Valle Caudina chiudono con 1 Dopo avervi dato la classifica del Camionato di Promozione del Giro nel C vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima Grazie